buongiorno a tutti allora due video oggi quindi cominciamo con il primo poi farò naturalmente il secondo perché il primo riguarda le partite che si giocheranno oggi lunedì 15 ottobre quindi sia le partite della nation league sia le due amichevoline abbastanza normali niente di eccezionale che si giocheranno sempre oggi mentre invece martedì siamo pieni perché ce ne saranno tantissime sia di partite di nation che di amichevole ma bando alle ciance veniamo alle partite che si giocheranno oggi partendo da islanda svizzera islanda svizzera perché l'islanda una squadra un po particolare qualche partita l'ha vinta qualcuno l'ha persa quindi boh è andata a pareggiare in pancia però ne ha prese sei con l'altra squadra del girone quindi che se non ero era proprio la svizzera islanda se è finita 6 a 0 se non ricordo male quindi vorranno sicuramente vendicarsi tra virgolette e quindi è partita da tripla perché comunque la svizzera vorrà continuare a convincere e cercare magari di vincere il suo girone l'islanda vorrà naturalmente vendicarsi della mazzetta perché se non erro hanno perso con loro quindi io francamente qua mi gioco solo l'over 1 e mezzo non mi sento di fare un pronostico perché ripeto la svizzera vorrà confermarsi l'islanda vorrà vendicarsi quindi entreranno in campo col come si suol dire col coltello fra i denti quindi può uscire qualsiasi risultato può uscire un risultato tipo polonia portogallo 2 a 3 per dire e anche qui potrebbe finire 3 a 2 2 a 0 0 2 1 4 cioè qualsiasi risultato è buono quindi vado sull'over 1 e mezzo e non rischio poi abbiamo spagna inghilterra e qua ahimè metto un 1 più over 1 e mezzo perché temo che la spagna si mangerà nuovamente l'inghilterra l'altra partita mi è volata la penna fa niente ne prendo un'altra l'altra partita è bosnia erzegovina irlanda del nord e bosnia erzegovina irlanda del nord io mi arrischio l'1 x più over 1 e mezzo sapete che mi piacciono sempre molto poi abbiamo sempre 20 e 45 tutte alle 20 e 45 meno male almeno avete tutto il tempo per fare i vostri pronostici cambiarli non seguire quello che vi dico io seguire non solo in parte perché purtroppo a volte ci prendo bene a volte sbaglio tutto a volte sbaglio al 50 per cento comunque finlandia grecia 1 x più over 1 e mezzo anche qua estonia ungheria ecco bah 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 x2 e over 1 e mezzo anche se qua francamente è anche questa una partita no va dai ci può stare l'x2 e forse anche tra non metto tra parentesi di se volete rischiarvi il 2 potrebbe anche starci lussemburgo san marino io dico uno fisso e over un due e mezzo alziamolo un attimino stoverla e questa è una partita abbastanza interessante poi abbiamo bielorussia moldavia 1 c'è sempre più over 1 e mezzo perché questi di gol non ne fanno molti quindi finirà 1 2 a 0 2 a 1 un punteggio simile non mi aspetto una grossissima goleada e con questo abbiamo concluso con le partite di lunedì per quanto riguarda la nation cup poi abbiamo due curiose amichevoli la prima è un mondo contro l'altro perché abbiamo kuwait australia kuwait australia io dico due e over 1 e mezzo me la rischio mentre invece croazia giordania dico uno e over tre e mezzo questo è proprio me la mi voglia rischiare l'over tre e mezzo ma credo che la croazia con la giordania potrebbe divertirsi parecchio fare tre o quattro gol se magari volete non rischiare state sull'over due e mezzo però magari se vedete che la quota over due e mezza è 1 e 10 1 e 15 1 e 20 magari l'uno più over tre e mezzo vi si alza un attimino perché francamente non è una è giusto ve la gioco perché c'è questa partita e mi sembra giusto mettervi il pronostico però francamente credo che pagherà pochissimo questa questo incontro comunque meno male che settimana prossima ricominciamo col campionato così vi faccio le mie bollettine solite vi faccio il solito elenco delle partite che si giocheranno cercherò di farvi anche una i pronostici di tutte le partite dei cinque campionati principali quindi italiano tedesco francese inglese e naturalmente italiano francese tedesco inglese spagnolo i cinque campionati non vi metto il portoghese eccetera non chiedete o austriaco o quello olandese perché va bene non gliela faccio finché non ho sta benedetta fibra io non ce la faccio quindi dovete accontentarvi di quelli lì vedrò di farvi poi magari faccio un video con i campionati i cinque campionati le partite dei miei pronostici e poi farò delle bollettine separate su magari inizio già metà settimana da giovedì a farveli così almeno avete tutto il tempo di di studiarvi la questione intanto vi saluto vi ringrazio e andiamo a vedere nel prossimo video come sono andati i pronostici di ieri ciao